A che cosa è dovuta questa formazione collettiva? Ovviamente tanta noia, non cazzo da fare con tanta noia, io adesso mi piace un sacco solo Guarda che anche la noia è un grande motivo per scuolare Che a vero mi ha detto, prevalente, prevalente A parte inizio io, in ordine Sì, chi si è? Io sono Gilberto Bufi, cioè Bufi è cognome Però diciamo che... Si, 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 si Mi chiamo anche Emanuele E sono il batterista del gruppo e comunque diciamo Ci siamo uniti, io e mio fratello già suonavamo tanti anni fa Anche se io non sono così vecchio E da un anno circa Certamente perché non hai la barba come la mia Non cresce Che è solamente qua sotto E già ci siamo... Questa formazione risale a... Mi ricordo Beh, questa formazione è magia Sì, Messi 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 No, un anno Un anno questa formazione Anan Un anno Un anno E... Da quando abbiamo fatto questa formazione diciamo abbiamo cambiato anche molto drasticamente il nostro genere musicale Si, si, si Si può, cioè montare abbastanza anche se Stampe, Soul, Grindcore No, ma che cazzo di dire? Bisogna essere coerenti con quello che si è fatto fino adesso Il line-up Grind l'ho mai fatto E' come se mi dici di fare la mazzurca Giusto Il line-up si è completato nel momento in cui ci ha raggiunto il 73enne Il peggio Il peggio Si presenti più peggio del gruppo Il peggio del gruppo Sono capigliere Terlizzi Si suona il basso e... E si è tossicato da poco E lui suona il basso Non come noi che proviamo a suonare il peggio Cioè lui suona la serie Come lui suona la batteria Vabbè, in realtà Vive da un secolo E... Si vede dei capi in mano Il peggio del gruppo Ed è il più Il peggio del gruppo Quindi diciamo l'età Due Si, due e mezzo sono Cosa? Ah! Vuole sapere quanti anni hai? Tre mesi Ottanta Cento anni E... Un... Un giorno E' nato ieri Beh ragazzi Ma effettivamente Questa formazione In che anno Si è... Si è più stabilizzata In che anno In che anno Circa un anno fa Circa Quindi nel 2012? 2013 13? Si, fine 2012 Sì, effettivamente è stato proprio così Cioè dicembre 2012 Per poi Protraversi per tutto il 2013 E... Diciamo appena formati Abbiamo iniziato con Svariati tipi di generi Diciamo con questa formazione Che variavano dal Dal... Dal classico progressive In assoluto Cioè quello proprio vecchio stile E... A punte di... 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 Metal Però non... Non estremo Ecco, come siete arrivati a questo genere? A questo genere? Siamo arrivati Perché... Cioè nel senso Incontrando queste quattro teste Incontrandosi queste quattro teste Tra l'altro C'è una particolarità Cioè... I suoi gusti musicali Sono l'opposto dei miei L'opposto dei suoi E quelli suoi Sono l'opposto dei miei E l'opposto dei suoi Tu Dov'è che hai provato? È sempre l'offerta A vedere... Sì, sì Un locale che abbiamo costruito io e lui Con... Diciamo... Sangue Sangue Per accedere Per accedere sai che fai come baffone Si cacciare i tasti del pianoforte Si gira il muro Grande C'è per considerare il tastiero Chi si è Avete Alfred incatenato Sì, sì, sì Che mi smonta e muta Allora, ma dai Però, vediamo sentire i vostri nomi e età Effettivamente Alessandro Alessandro Ciccolella 21 anni Cosa studi? Tecnica... Tecnica audioprotesica Medicina secondaria Sei un genio Poi... Un genio è lui Io ho 23 anni Giordano Bufi e studio chimica Aiii Poi passiamo al più vecchio Sì, ho 10 anni Gabriele Terlizzi Faccio il terzo valore Cioo scientifico Giordano Bufi 19 anni Faccio il quinto valore scientifico E amo le giraffe Non so come sei Sono costretto Che età hai? Dicià 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 Uno Uno Come stavamo dicendo prima Probabilmente anche il vostro genere è diverso tra loro Che... I vostri costi I vostri costi diversi Sì, i vostri costi diversi Sì, i vostri costi diversi Chiaramente Altrimenti faremo Brutal Death Metal Se dipendesse da me No Se dipendesse da lui Se dipendesse da lui Se dipendesse da me Beh Bossa nuova Polka No, Polka Metal Farina Metal Sì No, no, comunque secondo me Se... Se non ci fosse la sua influenza La sua Se non ci fosse la sua influenza Credo che non saremmo in giro Secondo me Spoceremo in qualcosa Troppo simile a Boh Qualcosa che è già Comunque il sound che si percepisce all'inizio Magari nella canzone che poi Ascolteremo Ehm Somiglia molto al tool Sì Un pochettino Quindi direi che un po' di influenza c'è Certo, certo Certo Perché è un gruppo che Ad esempio Lui non ascolta Se mi ascolta minimamente Assolutamente Non mi piace Lui non ascolta tutto Però Gli altri tre È meglio così In fondo Sì infatti Cioè unire Tanti Noi tre che Ci troviamo in fondo di tool Lui che In fondo È l'opposto Cioè non li ascolta proprio Ci tende A portare A portare a termine canzoni Che in fondo non sanno Di tool Forse io la batteria Sono anche portata automaticamente Dal mio cervello Perché io la ascolto proprio Perché c'è una mia maniera Di intendere la La batteria Di intendere diciamo L'approccio alla canzone Da quanto tempo Ognuno di voi suona? Più o meno? Da quanto tempo suonate diciamoci? Senti Io uso la voce da quando più o meno sono nato Più o meno La chitarra la suono da Da La seconda guerra Da la seconda guerra Da due anni Da due anni al quarto anno Ho cominciato a parlare Quindi Che robia? Ah io Dall'età di 18 anni Ho iniziato a Maltrattare la chitarra proprio A maltrattarla A torturarla Sì sì assolutamente Poi l'ho lasciata per un anno Poi l'ho ripresa E da due anni cerco di suonicchiarlo O almeno ci provo ecco In qualche modo Vabbè Lui 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 è andato con il basso in mano Non c'è una spiegazione Lui Lui al posto del latte Cambiava le corde Al posto della lattetta della madre Cambiava le corde E io da quattro anni sono il basso E vabbè Ce li hai quattro anni C'erano quattro anni ce li ho E io invece sono diciamo Il ciuccio vecchio Cioè Sono da Da quando avevo Nove anni della batteria E quindi Quindi diciotto Un primo piano Mi fa sempre di soggezione Quindi Diciamo Da dieci anni Cioè Cioè hai diciannove anni Cioè hai diciannove anni Presumono tanto rock classico Sul rock Eh vabbè dai è un dillo adesso Dico sei suonato ti piace Dico sei suonato per Quattro anni Sentiamo Allora io Vado Vado matto per Ornella Panoni No lo dico In realtà In realtà Seriamente Cioè il mio gruppo preferito Da quando si può vedere Da la maglietta che ho usato Nell'esibizione Perché non si è inculato nessuno Cioè il mio gruppo preferito E sono i Led Zeppelin Nel cuore Nella mente Nel culo Ma non sulle palve Però Dappertutto L'influenza Sia nella Adesso gusti Nell'approccio della canzone Ovviamente John Bonham Si in effetti L'ho capito anche io Dall'uomo Anche dalla tua tecnica Da ex batterista Come sono io L'ho notato Questo genere Questa tecnica sporca Di suonare la batteria Molto bella Bellissima Gabriele Te che sei più piccolo Ma più grande Un uomo Un uomo No Ma come sei riuscito A ridimensionarti In tutti questi altri generi diversi Mentre tu avevi un genere tutto tuo Allora Diciamo che Io sono Ho iniziato precedentemente A suonare con un altro gruppo Con cui continuo tutta la suonare di Dupia Diciamo che però Pur essendo un genere Che fondamentalmente Non mi appartiene E' un genere In cui Mi trovo molto bene Molto a mio agio Lo stesso Cioè A livello strumentale A livello strumentale Si Senz'altro E' un genere in cui Mi sono riuscito ad inserire Bene e con piacere Soprattutto Si In effetti Il basso Lavora tantissimo Ed è un fulcro Del gruppo Pagliamo 9 euro all'ora Allora Sappiamo che Comunque sia La formazione Sta in piedi Da un sacco di tempo No? Prima che arrivasse Alessandro Eh beh Da quanto tempo? Da quando ho iniziato a maltrattare la chitarra A quando iniziato? A quando iniziato? Eh vabbè Se dobbiamo fare Proprio Le cose ancestrali Cioè 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 quando io facevo ancora Greed dei Guzmack alla batteria Cioè Greed alla metà in poche parole Con i capelli corti Con i capelli corti Con i capelli corti No vabbè All'inizio suonavamo con due persone Due vecchi miei amici Suonavamo proprio il rock classico Classicissimo Cover Giusto perché volevamo iniziare a suonare Poi diciamo noi due ci siamo allontanati E abbiamo costruito il locale Ci siamo comprati gli strumenti Con i nostri soldi E Dopodichè abbiamo contattato Questo Il nostro ex bassista Prima precedente a lui Danilo Decanti E questo Danilo si è portato un tastierista dietro E abbiamo iniziato a fare queste canzoni nostre Però ho detto molto tendenti al prog classico Appunto perché c'era la tastiera C'era questa tastiera Questo sintetizzatore Che tendeva molto a fare cose Di vecchio stampo diciamo Dopodichè il tastierista abbandonato Forse perché l'ambiente era un po' troppo forte per lui Si è dato al jazz Si è dato al jazz Il tastierista completamente full Bravissimo però Poi Danilo a un certo punto diciamo Dopo che abbiamo cambiato circa Dodici cantanti Una cosa del genere E quando è arrivato lui Ce è rimasto perché ci fa pena in fondo Ce l'abbiamo cacciato No in realtà Esatto Ancora perché Anche perché se lo cacciamo Poi dove cacchio Andiamo a fare un altro cantante Quindi Sono finiti quei della zona insomma Si si Sono finiti completamente Ce li abbiamo provati tutti Ho provato a chiamare Meinard Però ha detto Su guarda Sono impegnato con il prossimo tour Solo berrebbe volentieri Però Ha detto Berrei volentieri Però Sai che caccia da fare Poi appena no Abbiamo anche provato a chiamare Poi Poi Sono altri livelli Cioè Sono altri livelli Non c'è nulla da fare Inutile che Diciamo chiacchiere Si Non sarebbe mai venuta Ma è bene Si ma Poi Alla fine Definitiva La provenienza del vostro nome Qual è Io so di un piccolo aneddoto particolare Che riguarda un sogno No 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 Di Ma è una cosa posteriore E' una cosa che è venuta molto dopo In realtà c'è tutta una storia di Allora Facciamo dire a lui Perché lui è da lui C'è la storia vera E la storia Diciamo fittizia Diciamo finta La storia vera Perché la storia finta La conoscete già E' quella del La conoscete pubblico Allora la storia finta Può essere qualsiasi cosa Ed è frutto della vostra immaginazione Vi lasciamo Inventate Libera Insomma la storia Spianata Fate quello che volete Cioè Invece la storia vera è che E' gay Io Dovevo fare una ricerca Sul Ginkgo biloba Assegnatemi dalla mia professoressa di scienze Ma come Beh E Giordano Diciamo Ma Oh ma Cominciamo a chiamare Noi A prendere Giordano C'è l'ho Ginkgo biloba Beh Ce l'abbiamo trovata Biloba Fanta Dati Rocky Balboa Ginkgo Balboa Rocky Balboa Non Definitivamente Dati Rocky Balboa Per Ginkgo Balboa Pensiamoci che Ginkgo Balboa Non è un bruttonore Non è un bruttonore Non è un bruttonore Però Pensandoci Giordano Una volta nella sua vita Aveva ragione Cioè io gli ho dato una volta Ragione a Giordano Una volta nella mia vita E Diciamo che In questo ambiente Abbiamo cercato di farci un viaggione Perché Effettivamente Il Ginkgo biloba È stata l'unica pianta Che è sopravvissuta Al disastro dell'Oshima Quindi Al Diciamo Gli effetti della bomba nucleare E quindi Quello shock Cioè quello shock Che ha il Ginkgo Al suo risveglio Cioè il risveglio Diciamo quel momento In cui il Ginkgo Si Riapre i suoi rami E le sue foglie Dopo un'esplosione E Diciamo si Rimane Attonita Nel guardare Ciò che è rimasto Anzi Ciò che c'era E non c'è Ciò che non è rimasto Ciò che non è rimasto Ciò che non è rimasto Di quello A causa di questa bomba Quindi voleva essere Un po' una cosa Naturalista Quindi Quello che sopravvive Nella musica Esattamente Vedi Questa è ad esempio Un'altra interpretazione Certo Ognuno Questo motivo Perché C'è la bomba di Hiroshima È X-Factor Cioè la bomba di Hiroshima È X-Factor Anzi è la La TV In genere E C'è la TV in genere I fichi I fichi I fichi I fichi I fiumetti I fiumetti I fioroni Però in effetti Sta da lui Cioè Però ognuno che vogliono dire Può dare la sua interpretazione Come tu è stata tua Però senti Già paghiamo lui Quindi Quindi Puoi tirare Ok Dopo questa risposta Ti darà 10 Allora ragazzi Allora Ma Che esperienza hanno avuto E cosa hanno in mente Di fare Qualsiasi cosa No Avete qualche progetto In mente Niente di certo Se potessi dire quello che vorrei fare Con la musica che riesco a creare E cercare di proporre un'alternativa Allo scenario musicale attuale Perché La cosa Diciamo che odio più di tutte E vedere che La musica Si fossilizza Sempre solo Su un genere Su Una tipologia E di Stereotipi Che impone il mercato Ma comunque Diciamo Noi siamo qui anche per un altro motivo Sì Voi avete scritto anche Un album Beh sì Un EP Un EP Sì L'abbiamo presentato Sì sì La nostra prima presentazione Ma perché questo album Si chiama 324 Perché no? Perché no 324? Tutta una questione di Libera interpretazione fondamentalmente Niente di più Perché no? Quando è che avete iniziato a scriverlo? Mai Non so se si è sentito Mai Mai Abbiamo iniziato a scrivere Dunque I pezzi li abbiamo pronti da relativamente poco Nel senso che Dall'inizio del 2013 abbiamo cominciato a scrivere i pezzi Il più vecchio Doppelganger È la prima traccia del CD È È la più datata Poi piano piano Abbiamo conseguito diversi tipi di sonorità e sfaccettature diverse Ci siamo arricchiti un po' diciamo Gabriele Non ti distrarre Aspetta Aspetta È importante No 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 Non è che sei il più grande e il più piccolo Si Giusto per quello di già anche vedendo i video Il video che avete fatto Si Questa figura che si vede o non si vede Ho chiamato Bill Ma Chi è questo Bill? Lo chiamiamo? Eh Si Lo potremmo chiamare Chiamo Bill Oh è Bill Vieni dai È me È me Carissimo Ti vedevamo In questo video Ma Prima di tutto Sponsorizzi le camera come sigarette Mi pare Mi pare che Non sia d'accordo Molto Molto luquace Ok va bene È chiarissimo Da dove? Ma che? Vabbè rispondiamo A me non rispondo Un po' di serietà Loro erano i Jingle Down Shock Ora stiamo alla chiusura Vi salutiamo Stefano Ivan e Monkey Ringraziamo la parola Ciao Speriamo di rivedervi in qualche altra canzone Staremo i mostri live Fino a quando possiamo permetterci di viaggiare Qui dove sta Questi Sarei più felici Mandarvi altri pezzi in radio Mi sa che è già dalla prossima Perché sei in Isla Eh sì Siamo in Isla Con Norvegia E poi a sdrigliai e guarda le buracote Ok Mandate i saluti a Isola di White Se ci stanno Anche in Ica Ok Ok va bene Un saluto in Sarvegna Ok noi abbiamo chiuso Se per la regia va bene Se ci dà lo stop Regia 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 Ti prende sempre dal calcio Ti prende sempre dal calcio Ti prende sempre dal calcio Ciao Vi Ula Ciao Saluti da Rando Eisenberg Saluti da Rando Eisenberg